Hanno risposto in tanti all'asta di beneficenza organizzata dal cardinale Crescenzio Sepe. La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, si terrà nell'auditorium Rai Napoli il prossimo 18 dicembre. La serata sarà presentata da Veronica Mazza e battitore d'eccezione dell'asta sarà invece Peppe Iodice. Special guest Gigi D'Alessio. Sono un segno di volontà di superare le immancabili difficoltà che abbiamo e poi perseguono fini concreti, ha detto l'arcivescovo metropolita di Napoli. Finalmente non sono solo parole, non sono solo gesti, non sono solo progetti che si dice, si fa, no, qui sono segni concreti con una finalità estremamente, anche questa molto concreta, che è soprattutto per i nostri ragazzi, per i nostri bambini ammalati. Siamo arrivati alla tredicesima edizione, è un'occasione in cui la Curia di Napoli mette a disposizione una serie di doni che tra l'altro arrivano anche da istituzioni prestigiose e il cui ricavato sosterrà una serie di progetti importanti. Noi abbiamo il dovere di essere a fianco al Cardinale su operazioni di questo genere, perché noi siamo servizio pubblico ed essere servizio pubblico non è un privilegio, ma è un dovere continuo. E uno dei doveri è stare dentro il territorio, lavorare con il territorio e lavorare per grandi progetti come questi. Speriamo che ci sia grande solidarietà da parte dei napoletani e di tutti quelli che contribuiscono all'asta, perché c'è un altro grandissimo progetto ambizioso, quello di realizzare un centro di odontotria pediatrica presso il carcere minorile di Nisi, da quest'ultimo ovviamente da realizzarsi in sinergia con altre realtà istituzionali.